Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Mr. Frank. Oggi faremo questo mini dossier per parlare di questi due personaggi, Magretz e Thor, della serie di Asgard. Sono entrambi datati in 1988, quindi sono tutti e due del periodo storico sui cavalieri dello Zodiaco. Ma perché vi starete chiedendo, devo parlare di questi due personaggi? Lo vedete voi stessi. Le armi. Bilancia, Crisaure, lo stesso dio dei mari Netuno, compreso Mime, tutti coloro che possiedono le armi nella serie tv e nel manga, in versione vintage possiedono le loro armi, le loro rispettive armi, tranne però appunto Magretz e Thor. Questa cosa è veramente incredibile, una cosa totalmente assurda e nessuno al mondo conosce le vere motivazioni. Secondo me molto probabilmente hanno preferito evitare per via delle punte, però la cosa si poteva comunque risolvere smussando le punte stesse. Anche perché non dico che devi fare il fuoco per quanto riguarda la spada di Magretz, ma almeno fare la spada. E anche le asce di Thor, non è che dovevano essere per forza due, ma almeno metticene una. E comunque sì, anche per il fatto delle punte è curiosa la cosa, è una mia opinione personale, discutibile o meno, tutto quello che volete. Anche perché comunque sia, personaggi come Bilancia, come Nettuno, come Crisaure, hanno comunque i loro tridenti e le loro lance. Quindi comunque non era certo impossibile fare una cosa così per Thor. Anche nelle edizioni fake dell'88, ossia i falsi dell'88, quelli che bene o male si trovavano nelle bancarelle delle fiere del paese, però quello non lo posso menzionare più di tanto perché scopiazzavano dagli originali. La cosa veramente curiosa è che Bandai a tutto questo non ci ha mai pensato, e né vi ha posto rimedio. Perché la cosa più brutta è che nelle ristampi HK, cui comunque ci sono state in alcuni casi delle migliorie, o comunque delle modifiche, almeno per quanto riguarda i corpi, non hanno poi inserito queste due armi. È una cosa incredibile. Ci poteva stare che magari involontariamente o volontariamente nell'88 non abbiano voluto mettere queste tre armi. Però nelle ristampe HK ci si aspettava che lo facessero. Visto che comunque sia, come ho citato, i corpi gli hanno fatto delle modifiche, comprese le colorazioni, che sono molto diverse, soprattutto per quanto riguarda Magrez. anche se parliamoci chiaro, le colorazioni sulla serie di Asgard per quanto riguarda gli HK non sono certo di ottima qualità, va un po' anche a fortuna, questo magari è un discorso che vedremo molto ma molto più in avanti, ma sta di fatto che è troppo troppo strano che neanche in quella edizione hanno messo le armi. Quindi in nessuna edizione vintage, per quanto riguarda questi due personaggi, originali e non originali, non esistono per questi due personaggi le loro rispettive armi. Questo è un lavoro custom fatto da un ragazzo del nostro forum Science Seiya Vintage Legend Italia, anche perché il progetto non è stato facile proprio perché non era uno scopiazzare, ma un creare un progetto da capo, un progetto nuovo, parliamoci chiaro. E siccome si è ispirato ai Myth perché queste armi esistono solo in versione Myth, ma Myth e Vintage sono comunque due cose troppo diverse, non solo di annate, ma anche di tutto il resto, dai corpi, dalle mani, eccetera, eccetera, si è dovuto fare un progetto da zero e fortunatamente è riuscito più che bene. Ma in realtà non era per parlare di questo, ma per parlare del fatto che questi due personaggi non possiedono le loro rispettive armi. Un mistero che non scopriremo mai, salvo se Bandai stesso non darà una spiegazione. Sta di fatto che erano due personaggi che a maggior ragione, secondo me, dovevano possedere le armi, anche perché se calcoliamo che Bilancia le possiede tutti e dodici, non si capisce perché questi due personaggi, soprattutto Magrez, che con la spada in mano rende molto, ma molto di più, e comunque sia anche Thor meritava, secondo me, le sue asce, sta di fatto che è un mistero che purtroppo non scopriremo mai, salvo se non sarà Bandai stesso a svelare l'arcano mistero. Quindi ragazzi, se trovate Magrez e Thor con delle armi, sono dei lavori custom, non è nulla di originale Bandai. Ci tenevo a parlare anche di questa cosa, di questo mini dossier, perché tante volte mi dicono, ah ma ho visto questo, ho visto quello, no, in realtà sono lavori custom, come anche i cavalieri di bronzo, quelli di riserva, quindi Unicorno, il Cavaliere dell'Orso, il Cavaliere dell'Hidra, eccetera, eccetera, sono tutti custom, a parte Unicorno, se vogliamo parlare del fatto che esiste la versione HK, ma nell'88, nel 1988, i cavalieri di bronzo di riserva, chiamiamoli così, non sono mai stati creati, furono creati solo Fenix, Dragone, Crystal, Andromeda e Pedasus. E quindi oggi vi ho fatto vedere che questi due personaggi non possiedono le loro armi. Come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate like al video se vi è piaciuto, ovviamente questi sono mini dossier, ci saranno poi cose molto ma molto più importanti, quando avrò molto più tempo e soprattutto quando potrò, ma prima o poi comunque parleremo veramente di cose che tutti quanti mi state chiedendo quasi tutti i giorni. Non vi preoccupate che prima o poi ci arriveremo. Per ora ho voluto fare questi mini dossier, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like al video se vi è piaciuto, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e ovviamente vi aspettiamo, come sempre, nel nostro forum Science Seiya Vintage Legend Italia. Mi raccomando, non vi confondete. Un caro saluto ragazzi e alla prossima. Ciao! Ciao!